La squadra ha fatto una grande prestazione, ha vinto, ha fatto anche un buon gioco, ha creato numerose palle e gol contro un buon Prato. Adesso chiaramente il punteggio sembra che il Prato non abbia fatto, invece il Prato ci ha tenuto sulla corda, ha avuto il rigore per riaprire la partita e magari poteva essere un'altra partita, ma noi oggi eravamo determinati, attenti, avevamo voglia di vincere di fronte al nostro pubblico e questi ragazzi avevano voglia di cancellare la pagina amara di Grosseto. L'hanno fatto però non abbiamo ancora fatto niente, teniamo tre punti, se guardiamo i risultati il campionato è molto difficile, i play-off sono ancora da conquistare, noi dobbiamo stare sul pezzo, lavorare con entusiasmo, con grande serenità, ma con grande entusiasmo e grande attenzione, perché questo è un campionato difficile dove ogni domenica può succedere di tutto. Adesso il tempo di rifiatare e poi c'è da preparare una partita difficilissima come quella con la Salernitana. Sì, ci godiamo questo successo che questi ragazzi ne avevano bisogno, io sono contento soprattutto per loro, perché gliel'ho detto anche a loro, i protagonisti sono loro, io cerco di mettere al loro servizio, a loro disposizione la mia esperienza, cercando di trovare un gioco che possa essere confacente a quelle che sono le loro caratteristiche, ma i protagonisti sono loro, i complimenti vanno tutti a loro, io cerco di, come ho detto prima, di mettere il mio contributo sotto il profilo dell'esperienza.